Se n'è andato Enrico Oldoini, sceneggiatore e regista, da anni residente a Roma, manato e cresciuto alla Spezia. Oldoini, 77 anni, era fratello di Renato, già direttore di Confedilizia, scomparso due anni e mezzo fa. Rimasto per sempre legato alla sua città, la Spezia lo aveva celebrato nel 2006 con una festa in occasione dei 30 anni di carriera cui si riferiscono queste immagini. L'annuncio è stato dato durante la cerimonia dei Davidi di Donatello con il pubblico che gli ha tributato un lungo applauso. Regista dei cosiddetti cinepanettoni ha firmato anche per il piccolo schermo il grande successo di Don Matteo che per sua stessa ammissione avrebbe immaginato e voluto girare a Porto Venere. Dopo essersi laureato alla Sapienza, studiò all'Accademia d'Arte Drammatica senza però diventare mai attore, ma lasciando il segno con grandi successi al botteghino ed ascolto come regista e sceneggiatore. L'esordio dietro la macchina da presa nel 1984 quando diresse Adriano Celentano e Renato Pozzetto in lui è peggio di me. Nell'85 torna alla Spezia dove gira Cuori nella Tormenta con Lello Arena e Marina Suma. Per il piccolo schermo firma tra l'altro due stagioni di Dio vede provvede con Angela Finocchiaro, Un passo dal cielo e Provaci ancora Prof. Sentiamolo in queste brevi battute raccolte durante la cerimonia in Sala Dante da Enrico Colombo. L'emozione è anche un po' disagio perché sembra una roba esagerata, insomma, comunque sono contento. C'è una lunga serie che apparirà credo in autunno prossimo che si chiama Capri, ma questo per la RAI, e poi ritorno adesso a giugno nel Salento a rifare la seconda serie di Abattantono, poi mi fermo e voglio fare il cinema.